Musica Caso Davide Ferrerio accolta la messa alla prova per la ragazza. Scoperte e sequestrate una pistola e quattro fucili a Cosenza. A Nicotera convegno sulla Calabria, culla dell'accoglienza e del dialogo interculturale. La società del Crotone Calcio ha disposto gli allenamenti della squadra a porta aperte per i tifosi. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Il gruppo del Tribunale dei Minori di Catanzaro ha accolto la richiesta del difensore della messa alla prova della ragazza all'epoca dei fatti minorenne, ora maggiorenne. è coinvolta nell'aggressione a Davide Ferrerio. Il 21enne di Bologna ha brutalmente picchiato l'11 agosto del 2022 a Crotone. La messa alla prova è stata concessa, dopo tutte queste ore di Camera di Consiglio, è riflettuto bene e quella piccola finestrina che io chiedevo di aprire, anziché un grande portone. Quella piccola finestrina è stata aperta dai giudici del Tribunale per i Minori, quindi hanno concesso la messa alla prova e quindi il processo probabilmente non lo ce ne avremo, ma adesso il giudice ha dato incarico all'istituto, agli assistenti sociali per redigere e predisporre un programma idoneo alla sua situazione, appunto per questo famoso recupero di tutto quanto e il 7 giugno ci ritroveremo qui in aula nuovamente con questo progetto che avranno in questi mesi diciamo redatto e predisposto gli organi competenti e inizierà la sua messa alla prova. Non sappiamo ancora di quanto, lo dirà la prossima evidenza il giudice, però questa è la strada che Martina percorrerà nell'un l'altro. La richiesta di aiuto è quella che Martina in aula ha praticamente sventolato, è stata recepita e anche se abbiamo avuto una posizione ferma da parte del procuratore, però momentaneamente le cose vanno così, andranno così, certo non esprimiamo nessuna felicità qui, nessuno vince, nessuno perde, questo ci tengo a ribadirlo ancora una volta. Noi abbiamo fatto quello che il codice prevede, mi ho richiesto questa forma che garantisce forse la cosa migliore, un percorso per cercare di rivedere e di rielaborare un po' quello che è stato un percorso finora negativo, cominciare una vita con dei presupposti valori anche diversi, magari sarà un progetto lungo, chi lo sa, però ritengo che il Tribunale abbia deciso bene in questo momento. Assolutamente assurdo che sia stato concesso la messa alla prova, perché finisce in nulla di fatto, l'oggetto principale del pestaggio e di queste risultanze la passerà liscia, quindi noi siamo assolutamente scontenti di questa decisione che ha preso il giudice, non lo meritava perché una ragazza che non ha preso mai coscienza di quello che ha fatto, non ha mai chiesto scusa a nessuno, e questo è assolutamente assurdo e crede di essere nella ragione, crede che secondo lei non ha fatto nulla, questo non è giusto nel percorso rieducativo deve fare un ragazzo ed è assolutamente negativo come immagine all'esterno perché consente a tutti i ragazzi poi alla fine di fare un attimino un po' come si vuole. Non è bello che si rifinisce con nulla di fatto, farà un percorso di nulla, un percorso di due anni, che il massimo è quello di due anni, farà qualcosa socialmente utile e poi tornerà a fare quello che ha sempre fatto. Motivato sul fatto che la ragazza continua nel suo comportamento di mancata resificienza di quello che ha fatto e continua, le hanno trovato un telefonino all'interno del carcere con il quale comunicava con l'esterno, quindi ragion per cui non ha assolutamente recepito la gravità della situazione. È una persona che viene sottoposta ad una prova del genere e è assolutamente un danno per lei perché non avendo capito quello che ha fatto è chiaro che naturalmente facciamo un danno a lei e alla comunità perché è il secondo episodio che è avvenuto, fece menare già un suo ex spasimante quando aveva 14 anni con il quale conviveva e adesso addirittura il pestaggio è arrivato quasi alla morte. Quindi credo che non era meritevole assolutamente di questa messa alla prova che si dà a mio avviso per reati minori e non per reati così gravi come questi. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, in un video pubblicato su Facebook, propone i GPS negli autospurgo per fermare gli smaltimenti illeciti. Su questo tema, ancora una volta, tolleranza zero. Ascoltiamo. Guardate le immagini che ricevo. La Calabria è un mare bellissimo e però in alcuni tratti questo mare è inquinato. Lo sappiamo perché ci sono interi agglomerati urbani che non sono collettati, non è stata fatta la depurazione per decenni, i depuratori non funzionano bene. Quest'anno, come l'anno scorso, stiamo lavorando per mettere a posto i depuratori, per fare il catastro del collettamento, per sapere dove scaricano gli agglomerati urbani, le imprese. C'era una cosa però che l'anno scorso volevo fare e non ho potuto fare perché era contro la legge. Volevo mettere il GPS, quello che è nei telefonini e ci dice dove siamo in ogni momento, sugli autospurgo per verificare se ci fossero autospurghi che smaltiscono illecitamente, che vanno a prendere i fanchi dai pozzi neri e li buttano magari nei torrenti, a mare, nei tombini, nei primi tombini che trovano. Non lo potevo fare perché era contrario alla legge, non aveva la regione questo potere. Oggi sono contento perché ieri in Parlamento è stato approvato un emendamento che io ho chiesto di proporre ad alcuni senatori di Forza Italia, ho chiesto al governo di dare il parere favorevole e quindi la legge cambia. Oggi le regioni possono regolamentare l'attività dell'autospurgo mettendo appunto il GPS per sapere in ogni istante dove vanno gli autospurghi e per controllare che l'attività di sbaltimento dei fanchi sia fatta in maniera lecita perché il mare è una risorsa, una risorsa di sviluppo, la Calabria è un mare straordinario, non può consentirsi che venga sporcato e su queste cose quindi ancora una volta tolleranza zero. I carabinieri della Compagnia di Cosenza nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno trovato e sequestrato nei confronti di ignoti una pistola calibro 7,65 con matricola brasa, quattro fucili risultati oggetto di furto in un'abitazione, uno dei quali con canne e calcio alterati, circa 250 cartucce inesplose di vario calibro erano nascosti all'interno di un locale comune di un immobile alla periferia della città. Saranno inviate al RIS di Messina per gli accertamenti tecnici. Approvato il bando per la progettazione e realizzazione della nuova strada statale 106 ionica tra Crotone e Simeri Cricchi. Quindi oggi si approva questo secondo tratto della variante 106 tra Cutro e Simeri Cricchi e sono i comuni adesso della provincia di Crotone a dovessi determinare? Sì, oggi si esprime il parere positivo in previsione della conferenza dei servizi che esiterà il giorno 11 aprile. Parere positivo all'ipozio di tracciato nel tratto che va da biviolenze fino a Simeri Cricchi. Questo è conseguenziale già al parere positivo espresso nel primo tratto che va da Crotone fino al biviolenze. Diciamo che siamo molto fiduciosi considerato che nei giorni scorsi è stato già approvato l'appalto integrato nel lotto che va da Crotone al bivio di Papanice con 279 milioni quindi i lavori dovrebbero iniziare a breve. Abbiamo avuto interlocuzioni con Anas alla quale abbiamo chiesto di accelerare i tempi anche del resto del tratto che va da Crotone a Mandatoriccio che è quello che ovviamente ci vede maggiormente interessati. Certamente è importante strategico collegare Crotone a Cadanzaro ma allo stesso tempo dobbiamo evitare l'isolamento del tratto che va da Crotone a Stride verso Mandatoriccio in particolar modo faccio riferimento ai comuni della provincia di Crotone per i quali abbiamo chiesto e ottenuto che il tratto da Crotone a Mandatoriccio è stato suddiviso in tre lotti e un lotto riguarda esclusivamente il territorio della provincia di Crotone ovvero da Crotone a Crucoli e in questi comuni che ci riguardano più da vicino abbiamo già ottenuto le delibere consigliari dell'adera al dibattito pubblico quindi questa variante sembra che sarà una realtà oggettiva sì oramai siamo oggi nei vari consigli comunali il consiglio provinciale di Crotone diciamo che tra oggi e domani tutti i consigli comunali tra Rocca Bernarda e Simeri Cricchi faranno il consiglio comunale e approveranno la delibere di consiglio che consente di mandare avanti il secondo tratto cioè tra Rocca Bernarda Biviolenze fino a Simeri Cricchi e il di seguito si è già già noto che il 29 marzo di quest'anno oramai è già partito il primo bando quindi oramai siamo al bando per la per chi deve andare a realizzare l'opera e per chi deve fare la progettazione esecutiva da qui a fine giugno tutti agli otto i lotti tra Crotone Passo Vecchio e Simeri Cricchi saranno attivi e si procederà ad una alla loro realizzazione quindi da qui a qualche anno ovviamente ci vorranno degli anni io Anas dice otto o nove anni avremo la strada a quattro corsie effettivamente I carabinieri hanno sequestrato a Oppido Mamertina per illeciti di tipo ambientale una vasta aria in uso ad una società che commercializza autoveicoli e motoveicoli nuovi e usati oltre a ricambi ed accessori per gli stessi mezzi il sequestro è stato motivato dal fatto che nell'aria in questione era stata lasciata una notevole quantità di veicoli fuori uso privi di targhe e parti meccaniche che ne impedivano la marcia nella stessa aria inoltre è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali alcuni dei quali classificabili come pericolosi consistenti in parti meccaniche di carrozzeria pneumatici oltre a fusti metallici rifiuti edili da demolizione e oli lubrificanti il terreno sul quale era stata avviata l'attività di stoccaggio era privo di copertura impremiabilizzata e di sistema di raccolta delle acque con conseguente pericolo di inquinamento del suolo i carabinieri oltre a sequestrare l'intera aria hanno denunciato in stato di libertà il rappresentante legale della ditta propria dell'aria di 69 anni ed un'altra persona di 33 anni imprenditrice e comproprietaria del terreno utilizzato per lo stoccaggio l'azienda statale cinese China Communication Construction Company è molto interessata alla costruzione del ponte da 10 miliardi di euro sullo stretto di Messina il colosso cinese delle costruzioni la China Construction ha dichiarato tramite il suo deputy general manager Pei Min Shan di essere interessata alla realizzazione del ponte sospeso sullo stretto di Messina già nel 2017 la China Construction ha fornito una soluzione di consulenza progettuale basata sul BIM per il nuovo progetto del porto offshore in acque profonde a Venezia nel 2019 ha fornito 4 gru di banchina 14 gru a cavalletto su rotaia automatizzate e 7 attrezzature per il cantiere per il porto di Vado il manager ha sottolineato che spera di poter utilizzare una tecnologia già collaudata nella costruzione di altri due ponti simili per contribuire a promuovere lo sviluppo economico e l'integrazione nel sud e nel nord dell'Italia una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3.34 nel Marionio tra Sicilia e Calabria secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 8,3 km di profondità ed epicentro a 38 km a largo di Reggio Calabria e di Acireale in provincia di Catania non si sono registrati danni a persone o a cose ora cambiamo argomento a Nicotera dove esiste una delle più grandi giudecche ebraiche calabresi un convegno su Calabria culla dell'accoglienza e del dialogo interculturale conoscere la storia calabrese nella quale non mancano importanti spaccati di matrice ebrea spesso dimenticati questo l'intento dell'iniziativa Calabria culla dell'accoglienza e del dialogo interculturale che ha fatto tappa a Nicotera si è trattato del terzo appuntamento del progetto Jequis Calabria patrocinato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dalla Comunità Ebraica di Napoli e sostenuto dalla Regione Calabria e Calabria Film Commission con l'obiettivo di promuovere la cultura ebraica in Calabria attraverso il dibattito pubblico con il coinvolgimento di territorio e istituzioni e università mass media il dibattito è stato particolarmente interessante e animato partecipato anche dagli studenti delle scuole di Nicotera è emersa la necessità di una maggiore consapevolezza della calabresità dalla quale ripartire per valorizzare le ricchezze e le eccellenze della Regione la storia della Calabria così come tutta del Meridione è una storia che ha avuto un'importanza diciamo estremamente forte non solo per l'ebraismo ma anche per diciamo le regioni stesse gli ebrei hanno portato un contributo enorme purtroppo con la cacciata dopo l'editto della Spagna gli ebrei sono stati inizialmente accorti nel Meridione in Calabria soprattutto e poi sono stati cacciati via di nuovo quindi l'accoglienza è un qualcosa di molto importante abbiamo già nella Torah stessa si parla dell'accoglienza del povero dello straniero del diseredato dell'orfano della vecchia di tutti coloro che hanno bisogno l'accoglienza è un dovere fondamentale soprattutto nell'ebraismo impresso già nella Torah stessa oggi siamo qui anche perché nasce per la prima volta dopo 500 anni una sezione culturale ebraica calabrese questo è un tassello che viene posto nel mosaico identitario calabrese ufficialmente ed è un'opportunità per tutti un'opportunità che abbiamo di poter rilanciare tramite le minoranze etniche un discorso nuovo originale unico che soltanto noi abbiamo qui in Calabria questo evento di oggi che si inserisce in un percorso di narrazione che la Calabria sta facendo molto bene per far scoprire le sue identità e quella ebraica è una di queste tra le più antiche credo che sia un momento molto importante molto importante anche per segnare il nostro futuro la Calabria si è sempre dimostrata un porto aperto sia per l'accoglienza che per l'integrazione culturale ambientale e sociale quindi è già il terzo appuntamento che sostiene la Calabria Film Commission come patrocinante Sant'Embra del Cede è stata la prima nello scorso maggio dicembre a Reggio Calabria oggi Nicotra è un incontro importante con tantissime autorità e il finale sarà a Bisignano fra qualche mese quindi insomma la Calabria Film Commission è molto presente a queste tematiche appunto atta a narrare a celebrare le comunità ebraiche che in Calabria hanno delle radici molto importanti con circa dieci secoli di storia Nicotra che è anche città dell'accoglienza che ha nel suo centro storico una giudecca e che è una cittadina che può essere considerata simbolo della capacità di accoglienza di noi calabresi non dobbiamo non dobbiamo l'avvio del progetto OICOS Calabria è volto a favorire la formazione professionale e l'inserimento socio-lavorativo di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale è stato sottoscritto lo scorso anno tra il ministero dell'interno il ministero del lavoro organizzazioni sindacali del settore edile ed ance è stato approvato nella seduta di giunta regionale il progetto OICOS Calabria a cura del dipartimento welfare e lavoro e riguarderà l'attivazione di percorsi formativi dedicati nel settore edilizio mediante lo svolgimento di attività formativa tecnica e successiva esperienza professionale presso le imprese del settore aderenti allo stesso tempo OICOS Calabria consentirà alla regione di soddisfare il fabbisogno delle imprese calabresi operanti nel settore delle edilizie di figure dotate di competenze adeguate e specifiche in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza guardiamo ad un nuovo modello di inclusione dice l'assessore regionale alla formazione professionale al lavoro Giovanni Calabrese progetto che consentirà ai migranti di essere inseriti in un percorso lavorativo ricependo anche la preoccupazione di Anci Calabria e dei sindacati del settore circa la carenza di manodopere in un settore oggi in crescita grazie all'opportunità e all'incremento di attività postenestere attraverso il PNRR con Anci Calabria e continua calabrese si stanno avviando una serie di attività di formazione di figure qualificate secondo quelli che sono oggi reali fabbisogno del settore per creare reale occupazione in Calabria la vicenda di Cutro continua che ha scosso l'intera nazione ci ha portato ad accelerare questo percorso facendo divenire la Calabria non solo terra di sbarco e accoglienza ma anche terra di occupazione e prospettiva OICOS favorirà proprio la convivenza dei cittadini italiani e stranieri e consentirà di partecipare alla vita economica sociale e culturale il progetto la voce dell'aggregazione a sostegno del Luigi portato avanti dalla casa editrice Beroe è approdato alla scuola media murmura di Vibo Valencia continua a mietere consensi trovando soprattutto l'adesione delle scuole del territorio il progetto ideato da Renato Costa è portato avanti dalla casa editrice Beroe l'idea di base è quella di arrivare ad una società più inclusiva ed equa ed in questo senso si stanno adoperando i ragazzi della scuola media murmura che su impulso della dirigente Tiziana Furlano e con il coordinamento dell'insegnante Anna Ruggero stanno attuando il progetto la voce dell'aggregazione a sostegno di Luici l'Unione Italiana Cecchia e Ipovedenti il progetto consiste nella realizzazione di audiolibri realizzati attraverso la voce dei ragazzi per fare ciò gli studenti della Murmura vengono avviati alla lettura ad alta voce ed espressiva in modo che sia interprete delle emozioni e delle suggestioni che ogni scrittore imprime alla propria opera il progetto è stato illustrato nel corso di un incontro durante il quale è presente il presidente della sezione Luici di Vibo Valencia Giuseppe Bartucca esperti della comunicazione hanno spiegato il senso di questo impegno e indicato le prime impostazioni con due attori Giuseppe Ingoglia e Dolores Mazzeo che hanno avviato verso i primi rudimenti di questa attività che vede la scuola Murmura protagonista di un concreto esempio di cultura inclusiva un incontro importantissimo organizzato proprio con le classi prime della scuola secondaria di primo grado che è una fascia di età molto difficile non sanno veramente ascoltare in alcuni minuti per cui aver sottolineato l'importanza dell'ascolto e l'importanza del dono della voce diventa di fondamentale importanza nel loro processo di crescita quindi un grazie di cuore veramente a tutti gli intervenuti a coloro che oggi hanno organizzato questa giornata perché ci ha permesso di mettere in rilievo e in risalto l'importanza anche del dono gratuito donare la voce è un atto gratuito ma di grande importanza per chi deve superare una difficoltà nella vita proprio da questo punto di vista questo istituto si caratterizza per questi aspetti e quello del dono è uno degli elementi importanti assolutamente sì perché siamo Scuola Polo Admo quindi da sempre i nostri ragazzi vivono l'esperienza del dono come parte importante nella giornata quotidiana nella vita quotidiana non nei grandi eventi proprio come parte dell'attività di ognuno di noi sia come Scuola Polo Admo ma l'anno scorso poi abbiamo anche partecipato ad un progetto dell'Unione Italiana Cechi nella sede di Vibo dove i ragazzi hanno donato la loro voce quindi è un percorso di crescita che ci permette di far capire ai ragazzi che a volte basta poco per cambiare la vita di chi ci sta accanto ed è questo che permette poi di costruire una società più adatta ad ognuno di noi più equa più inclusiva e più giusta e concludiamo con una notizia di sport in occasione del centenario del Crotone Football la società Rosso Blu ha comunicato che gli allenamenti della squadra saranno aperti ai tifosi allenamenti a porta aperta allo stadio in suscita di Crotone per la seconda volta la società Rosso Blu ha aperto i cancelli per permettere ai tifosi di assistere agli allenamenti proprio in occasione dei cento anni del Crotone Calcio la lieve pioggia non ha fermato i tifosi e ai microfoni in sala stampa il difensore Davide Bove che commenta così le ultime tre partite rimaste e poi i playoff innanzitutto fa piacere giocare due volte in casa perché ci avvicina ai tifosi e anche appunto l'allenamento a porta aperte fa sempre più piacere per le gare sì ci preparano ai playoff noi pensiamo partita dopo partita e pensiamo a migliorare per arrivare pronti alla prima gara dei playoff domenica scorsa per il Rosso Blu l'emozione di debuttare da titolare nella data del centenario penso che tutta la squadra abbia fatto una buona partita il mister mi trovo molto bene ci aiuta sempre ci fa capire quello quello che vuole giocare non giocare sono scelte del mister per me l'importante è crescere e da questo punto di vista mi sento molto migliorato ora testa le ultime tre partite e poi si pensa ai playoff non è facile perché magari le altre squadre possono avere qualche obiettivo in più nel campionato ma noi abbiamo un obiettivo che è chiaro vogliamo arrivare al meglio per quella partita lì e quindi ci dobbiamo far trovare pronti ecco io mi sento bene l'importante è allenarsi e dare al cento per cento in tutti gli allenamenti poi le scelte le fa il mister io sono sempre pronto a dare il massimo come chiede la piazza e utilizzare ogni partita e ogni allenamento per migliorare e crescere ma sì sicuramente l'autostima è molto importante perché la squadra deve sapere che è forte può ambire all'obiettivo che ci siamo prefissati è tutto per queste edizioni vi lascio ora con le notizie dell'Italia e del mondo grazie per aver seguito il nostro TG oggi vertice trilaterale tra Xi Jinping Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron a Pechino il presidente francese ha detto al leader cinese di poter contare su di lui per riportare la Russia alla ragione nel conflitto in Ucraina auspicando che si eviti qualsiasi escalation la Cina promuova una pace giusta serve il ritiro della Russia e l'appello della presidente della commissione europea da parte Xi Jinping ha invocato negoziati al più presto ribadendo riporta von der Leyen la sua disponibilità a parlare con Zelensky a tempo debito i tre leader concordano sul no all'uso di armi chimiche e nucleari nel conflitto ma per ora dice il portavoce del cremlino Peskov non c'è alternativa alla guerra per Silvio Berlusconi ricoverato da ieri in terapia intensiva al San Raffaele la situazione rimane complessa ma stabile il leader di Forza Italia è sempre vigile e da ieri ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e costretto al ricovero in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare l'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo si legge nel bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri questa mattina l'ex presidente del consiglio ha telefonato ai vertici del partito li ha salutati con affetto e ha detto loro il paese ha bisogno di noi non c'era solo la mafia dietro la strage di Via D'Amelio lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini l'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione morale e materiale alla strage di Via D'Amelio di altri soggetti diversi da Cosa Nostra e di gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino può ritenersi certo che la sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile ad un'attività materiale di Cosa Nostra aggiungono nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009 uno dei terremoti più devastanti della nostra storia recente ha propagato morti e distruzioni all'Aquila e nei paesi vicini questo giorno di memoria è per la Repubblica un rinnovato giorno di impegno l'impegno di completare la ricostruzione di sostenere una rinascita piena della vita civile sociale economica e culturale della città nel 14esimo anniversario del terremoto che distrusse il capoluogo abruzzese provocando 309 morti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Sindaco dell'Aquila sottolinea che occorre impegno nella prevenzione rigore nella ricostruzione e nel risanamento degli edifici il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del terremoto ha proseguito il capo dello Stato deve spingere proprio al rilancio dell'università e dell'impegno nelle attività scolastiche per una nuova stagione di progresso Nella Chiesa occorre costruire armonia e non partiti o cordate con un occhio al passato a tornare a chiederlo è stato Papa Francesco nell'Omelia della Messa a Crismale che apre il Triduo Sacro di Pasqua nel pomeriggio in occasione del Giovedì Santo il Pontefice ha celebrato la Messa in cena a Domini nel carcere minorile di Casal di Marmo Il prezzo medio dell'elettricità nel 2022 ha aumentato di oltre il 100% e quello del gas del 57% è quanto emerge dall'ultimo rapporto trimestrale dell'Enea che sottolinea al di là del breve periodo gli alti prezzi restano una grave minaccia alla competitività dell'industria europea ma il piano di contenimento dei consumi di gas e i prezzi record dell'energia hanno contratto la domanda di gas ed elettricità e garantito margini di capacità accettabili sia nell'elettrico sia nel gas nonostante sia venuto meno un quarto delle importazioni del 2021 nonostante sia venuto nonostante sia venuto